Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti grazie per essere qui e per aver scelto, aperto insomma questo video allora, diciamo innanzitutto che ho registrato qualche giorno fa un video che avete apprezzato da matti e il video è stato un video per la concentrazione, per la memoria di una ventina di minuti circa dove praticamente ho fatto dei trigger un po' particolari dove disegnavo delle parole, facevo delle cose e dicevo, tipo dimmi che colore è questo, dimmi che colore è questo, così tipo, che colore sono quale colore è più scuro, quale colore è più chiaro, tipo così e lo avete apprezzato moltissimo, vi è piaciuto veramente tanto l'avete apprezzato tanto, vi è piaciuto tanto e ho questa forte vostra partecipazione, ecco in particolare in quel video io l'ho sentita molto e quindi questo non sarà una parte 2 di quel video perché me l'avete già richiesta e lo farò prossimamente ma questo video è un video per la visione periferica e adesso, 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 adesso ti spiego subito che cos'è la vista periferica e te lo spiego con un esempio molto sciocco, molto ironico che però sono sicura che ti farà capire al 100% che cos'è la nostra visione periferica allora, come tu sai, noi abbiamo, nel senso, io adesso dovrei guardare lì e non qui, ma guardo qui un attimo io adesso dovrei, praticamente, guardando lì ho la mia visione individuale, precisa ti sto guardando perfettamente e tutto quanto però, quando io guardo questo, cioè questo contorno qui che è il vostro schermo, praticamente so che, tipo, qua sopra voi non lo vedete, ma qua sopra c'è uno specchio qui ci sono delle finestre, delle denti dietro ci sono, avevo guardato però due luci, una gialla, una zora, due lampade qua dietro c'è il letto qui so che c'è un armadio, c'è la cabina armadio quindi diciamo che noi abbiamo più di una tipologia di vista avete presente quando allora fate finta che qui ok immaginate che questa penna rappresenti un ragazzo carino faccio un esempio e voi l'avevate visto prima ecco, se io metto tipo così, no? e sto parlando con una mia amica secondo voi con la coda dell'occhio non riesco un po' a vedere quello che fa la penna quindi in questo caso è un ragazzo carino o se sono qui e magari sto parlando qui così faccio a faccio con una mia amica io comunque con la coda dell'occhio riesco un po' a intravedere quello che sta cioè, se io adesso parlo con lei però vedo con la mia coda dell'occhio che il ragazzo, la penna, quello che sarà si muove ecco, la nostra visione periferica è la visione, diciamo, esterna quindi non è la nostra visione centrale quindi principale ma è quella parte mi anzarderei a dire non è tipo il mio occhio marrone ma la parte bianca dell'occhio quindi l'esterno non è così cioè, almeno non credo però era giusto un attimino per darvi un'idea e anche appunto per farvi capire un attimo di cosa stavamo parlando oppure se io ti dico per esempio guarda qui guarda le mie unghie tu con la tua visione periferica anche se stai guardando le mie unghie sai che io sto spennellando 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 con il pennello quindi alleni diciamo, questo video serve anche per allenare la visione periferica e tutte queste abilità del nostro subconscio della nostra mente è un video bello, bello carico bello caratteristico importante e se volete anche di questo video che io lo proponga ancora eccetera lasciate un mi piace iscrivetevi e commentate così se farete queste cose assolutamente ne farò ancora di questi video un bacione e vi lascio al video ciao seguite 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 bene 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 le mie istruzioni ciao 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 allora ti chiedo adesso di guardare il mio naso quindi concentrati fissa guarda abbi come punta di riferimento solamente il mio naso e nel frattempo io andrò a disegnare con questa penna due parole ma tu dovrai guardare solamente la punta del mio naso quindi alla fine non dovrai dirmi che parole ho scritto dovrai soltanto soltanto dirmi se ho un naso rotondo punta quadrato quindi la parola d'ordine è nose naso guarda solo 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 questo 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 concentrati solo sul mio naso e non guardare da nessun'altra parte qualsiasi cosa succeda arrivo a Belen tu guarda il mio naso ok allora ti scrivo tre parole faccio ok allora concentrati concentrati è un po' lunga la parola ma tu devi guardare solo il mio naso passiamo alla seconda parola guarda il mio naso guarda il mio naso qui 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 guarda il naso e ultima parola ok guarda qui naso 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 solo il naso adesso invece ti chiedo di guardare qua sotto quindi se stai dormendo guarda le lenzuola se il telefono appoggiato al divano guarda il divano se sei sombrato guarda l'elpa guarda sotto quindi guarda il giallo guarda tipo sotto i comodini qua basta che guardi sotto under sotto lo schermo non guardare qui non guardare qui non guardare sopra lato guarda sotto giù giù cioè tu devi vedere praticamente aspetta scusa devi vedere tipo una cosa di questo tipo ok devi guardare sotto 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 io intanto metterò un insieme di colori e se tu riuscirai a dirmi che colore è benissimo se no non importa ma intanto ci siamo allenati allora iniziamo con questo tu guarda sotto non guardare le luci non guardare me guarda sotto ok iniziamo da questo io ti posso garantire che anche se tu guardi sotto con la tua visione perifarica che stiamo andando ad allenare riuscirai a capire e indovinare i colori allora eccolo qui ok poi questo è bello intenso ok poi questo è il colore preferito di mio papà questo invece è il mio colore preferito ed è un colore che io sinceramente adoro bellissimo adesso ti metterò due colori insieme e devi riuscire a dirmi tutti e due però anche se non riesci non importa la cosa importante è che tu guardi sotto lo schermo guarda sotto sotto dove ci sono le gambe guarda sotto i piedi guarda dove vuoi ma guarda sotto ok adesso cambiamo ancora così cambio 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 modifico ancora abbasso un po' la luce così magari ti aiuto un po' e ora te li metto tutti insieme tu continua mi raccomando a guardare sotto ok adesso ti faccio vedere una cosa quanto sono belle adesso io lascerò le luci qua ok alzo leggermente proprio poco poco la luminosità lascio le luci qui e tu dovrai concentrarti e guardare solo 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 le luci io farò un po' di giochi con il pennello un po' di cose tu dovrai però qualsiasi cosa accada anche se entra per lo scone devi guardare le luci ok guarda solo le luci ti posso garantire che questi tipi di video sono molto belli molto interattivi molto particolari e secondo me tu li apprezzerai comunque guarda le luci guarda solo le luci guarda solo le luci concentrati solo sulle luci ok questa tipologia di video guarda le luci guarda le luci questa tipologia di video è stata fatta o comunque creata apposta per ricreare dei brevidini dei tingles delle sensazioni nell'essere umano utilizzando e stimolando la visione periferica tu concentrati sulle luci guarda soltanto le luci solo 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 le luci nemmeno me io sono soltanto una una figura una persona in più ok adesso togliamo le luci e segui guarda 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 il mio dito quindi concentrati qui sulla buca e poi è pure storto cioè va bene siamo aperta concentrati solo sul mio dito ok quindi anche se l'intra ero sarà mazzotti che facciano i sceluzzi che tu guarda il mio dito ok solo il mio dito concentrati sul mio dito ogni tanto te lo oscuro un pochino ma tu guarda solo lui adesso faremo altre attività e sarai tu a scegliere il il posto dove guardare però io ti darò chiaramente dei limiti perché posso darti qualche piccola opzione però non troppo diciamo così ok 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 concentrati sul mio dito bravissimo bravissima bene voglio dedicare 5 secondi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 per farti i complimenti ma non guardare le mani guarda me guarda me guarda me non guardare non seguire le mani guarda me guarda me guarda me adesso faccio un po' di giochi insieme allora adesso scegli tu dove guardare ti dico però un limite che avrai allora devi scegliere un qualsiasi punto che sia fuori quindi completamente fuori dallo schermo scusami un attimo ok no stavo controllando perché mi serve un piccolo timelapse allora ti do delle indicazioni precise tu devi guardare fuori dallo schermo guarda fuori dallo schermo quindi ti faccio un esempio qui puoi guardare sopra questa linea che ho appena tracciato puoi guardare di lato quindi fuori a questa linea che ho appena tracciato puoi guardare sotto ok quindi sotto questa linea che ho appena tracciato e di là quindi fuori dallo schermo rispetto a questa linea che ho appena tracciato la cosa scusami aspetta che lo rifaccio ok la cosa per me importante è che tu non guardi lo sfondo non ti concentri su di me no 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 sbagliato 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 non guardi la pena non guardi quello che faccio anche se farò delle cose tu devi guardare fuori dallo schermo e se riesci cercare di capire cosa sto facendo che oggetti utilizzo di cosa parlo anche l'ascolto ti può aiutare però utilizziamo la nostra visione periferica quindi tu concentrati al di fuori di questo schermo e non guardare lo schermo guarda fuori guarda all'esterno non all'interno vai scegli il punto inizia scegli un punto inizia se mi hai guardato già adesso hai perso quindi no è comunque una sfida non guardare non guardarmi guarda fuori guarda dove vuoi ma guarda fuori guarda guarda fuori guarda, guarda fuori guarda, guarda fuori fuori dallo schermo guarda fuori dallo schermo, fuori guarda fuori, ti è severamente proibito, vietato a guardare all'interno ok, adesso se vuoi magari scegli un angolo, guarda sopra, guarda di lato, guarda giù però continua a guardare fuori, mi raccomando, non guardare me io faccio cose, faccio cose, perdo tempo, sprivendo, pulisco i vetri ti tengo un po' di compagnia e sto cercando di capire, e sto provando ad immaginare quale posto tu hai scelto e sto cercando anche di pensare se tu, 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 non guardarmi sto cercando di capire se mi stai ingannando oppure se stai seguendo e stai rispettando tutte, 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 tutte tutte, 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 tutte le mie istruzioni oppure sei andato in Sardegna a mangiarti una Seatas ok adesso voglio fare un'altra cosa tu continua guarda fuori io sono brutta non guardare me sto preparando cose, faccio cose tu guarda fuori allora non guardare me e soprattutto non spirciare allora ora ora tu continua continua a guardare fuori allora tu sempre guardando fuori dallo schermo ora vedrai un'immagine non guardare l'immagine guarda fuori e prova a indovinare cosa ho disegnato prova ad indovinare cosa ho disegnato però non guardare non guardare non guardare guarda fuori guarda fuori 5 4 3 2 1 ok adesso cambiamo questo non so se si capisce però prova a indovinare 5 4 3 2 1 ok era una segretta mi raccomando però devi fare questo gioco guardando fuori cioè non devi guardare me non hai pause non hai niente tu guarda fuori io faccio cose gesti mi muovo e così piano 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 andiamo ad allenare la tua visione periferica e la tua vista questa volta hai 7 secondi 1 2 3 4 5 6 7 ok e adesso invece facciamo l'ultimo l'ultimo disegno e disegniamo ok 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 non so se si capisce tanto però io ho cercato di fare del mio meglio prova a indovinare cos'è questa cosa anche se cioè è una cosa però nello specifico perché c'è anche la parte sopra che si mette nei capelli tu comunque non guardare però sei indovinato sei stato bravo o brava bravissimo bravissimo bravo o brava bravissimo o bravissima stop puoi guardarmi puoi guardare il mio naso i miei occhi la bocca le labbra tutto adesso non serve più che guardi fuori allora adesso voglio dedicare gli ultimi istanti a giusto le ultime cosine che ho voluto preparare per te sperando di fare la cosa io adesso voglio utilizzare la luce tu scegliamo un punto insieme guardi la penna e io faccio dei giochi con la luce in questo modo non è ovviamente lo stesso allenamento di prima ma andiamo comunque ad allenare la tua vista per i vecchi quindi tu segui la penna segui molto 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 attentamente la penna ok e io cerco di fare dei giochi con la luce tu concentrati su questa penna solo sulla penna ok soltanto sulla penna vado un po' in varie parti dello schermo ti creo dei giochi di luce ma tu segui soltanto la penna ok stessa cosa stessa stessa cosa sai dirmi cos'è senza guardare guarda solo la penna sai dirmi cos'è di che colore è quanto grande è l'hai mai usato ok continua a guardare soltanto la penna che si appena anche con le mie unghie guarda solo la penna o anche il tappo se li trovi meglio della penna la 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 penna segui la penna bene 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 solo 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 la penna la penna la penna qui 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 solo qui bravo, 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 brava, brava, ok facciamo ancora un po' di luce e poi ti saluterò con una cosa speciale alla fine solo, 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 la penna ok, concentrato, concentrata, molto bene e tu guarda il tappo, so che è molto difficile comunque bene e infine per completare tutto c'ho questo ventaglio tu però puoi guardare non so vedi che qua c'ho tipo un piccolo neo sparo non ti dia fastidio a me urta un po', cioè non capisco cosa ci fa un neo qua però è lì, credo sia tipo l'unico neo che c'ho adesso io abbasso un po' la luminosità così ti puoi addormentare di più e tu guarda il mio neo io passo un po' il ventaglio e poi ci salutiamo se ce l'hai fatta e sei arrivato alla fine bacione, bravissimo tu guarda il mio neo io non te lo dico più ma guarda il mio neo sulla mia pelle ok lì puoi guardare solo, solo lì io faccio un po' di montagne russe ma tu segui il neo che ridere, segui il neo bravo, 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 bravo bravissimo, 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 bravissimo bravissimo, 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 bravissimo qui il neo bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo sei super attento e concentrato se ci sei riuscito bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo e io posso dirti che abbiamo allenato davvero super super bene la tua vista periferica e ora segui il dito e addormentati sul cuscino o comunque ti sei riposato rilassato un kiss ciao